Marie Curie Benvenuti a questo speciale video dedicato a una delle menti più brillanti della scienza Marie Curie Oggi esploreremo la sua vita straordinaria e le sue incredibili scoperte di questa pioniera della ricerca scientifica Marie Curie, nata Maria Skidowska, nacque il 7 novembre 1867 a Varsavia, in Polonia Allora parte dell'impero russo Da giovane dimostrò un'intelligenza e una passione per l'apprendimento Nonostante le sfide economiche che la famiglia affrontava Nonostante le restrizioni dell'epoca dell'istruzione femminile Marie Curie proseguì con determinazione la sua passione per la scienza Dopo aver completato gli studi liceali Marie desiderava proseguire i suoi studi in Francia Ma le restaurazioni politiche polacche all'istruzione femminile le resero difficili all'accesso all'università Dovia, grazie al suo impegno sulla determinazione, riuscì a studiare clandestinamente all'università volante di Varsavia Nel 1891, nell'età di 24 anni, Marie si trasferì a Parigi per studiare alla Sorbona Una delle istituzioni scientifiche più prestigiose al mondo E fu qui che incontrò il suo futuro marito, Pierre Curie Un fisico e insegnante all'università La collaborazione con Pierre fu fondamentale per la carriera scientifica di Marie Curie Insieme si dedicarono alla ricerca sulla radioattività Un campo di studio allora appena scoperto Nel 1898, i coniugi Curie scoprirono due nuovi elementi chimici Il polonio e il radio Rivoluzionando la nostra comprensione della materia Queste scoperte non solo fecero di Marie la prima donna a vincere un premio Nobel Ma trasformarono anche una delle figure più influenti della comunità scientifica internazionale L'eredità di Marie Curie va ben oltre le sue scoperte scientifiche Una fervente sostenitrice della condivisione del sapere scientifico E della ricerca internazionale Nel corso della sua vita non fece solo importanti contributi alla scienza Manca la promozione dell'istruzione scientifica e alla parità di genere E così il suo spirito di scoperta e il suo imperio per l'eccellenza scientifica Vivono ancora oggi Marie Curie ha lasciato un'imposta indelebile nella storia della scienza Nessuno a me sarà per sempre associato alla ricerca e alla scoperta Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e le opere di Marie Curie Continuate ad esplorare il mondo della scienza e lasciatevi ispirare dalle sue straordinarie imprese Alla prossima!